Fermati i combattimenti, concordiamo un cessato il fuoco. Questo è il messaggio anticipato alle parti belligeranti in Libia dai ministri degli esteri di Grecia, Cipro, Francia, Italia e Egitto che si incontrano questo mercoledì al Cairo. L'escalation di violenza in Libia ha fatto scattare l'allarme. Almeno 30 vittime nei bombardamenti all'Accademia Militare di Tripoli che il generale Khalifa Haftar nega di aver ordinato. La Libia è divisa in due. Fayez al-Sarraj comanda Tripoli. Il generale Haftar spadroneggia Benghazi, sostenuto da Emirati Arabi, Egitto e Russia. Il governo di Tripoli è sostenuto dall'ONU e appoggiato da Turchia, Catara e Italia. Prima del summit del Cairo il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio esprime le sue preoccupazioni. La Libia è un rischio per l'Europa anche per il pericolo terrorismo. C'è una guerra per procura. Bisogna cessare tutte le interferenze perché ci sono paesi che interferiscono con quella guerra civile facendola diventare una cosiddetta proxy war. Una guerra per procura potrebbe diventare quella in Libia. Già a novembre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha firmato un accordo di cooperazione militare di sicurezza con il governo di accordo nazionale di Tripoli guidato dal Sarraj. Ora la Turchia ha iniziato a dispiegare le sue truppe per contrastare l'avanzata militare delle forze fedeli a Haftar. Ma per l'Europa la soluzione deve passare necessariamente per negoziati diplomatici. Anche il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi ha espresso le sue preoccupazioni criticando gli accordi della Turchia con Tripoli. L'Egitto si erge così a punto di riferimento diplomatico ospitando il vertice dei ministri degli esteri in attesa di un annunciato summit europeo a Berlino sulla crisi libica che ancora non è stato neppure fissato.